ciao lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati sul mio canale benvenuti nella seconda parte del wrap up delle letture di luglio che sarà in realtà un video un po atipico perché ci voglio infilare anche un po di chiacchiere dentro ho solo due libri di cui parlarvi perché l'ultima lettura di luglio che in realtà mi sto portando anche dentro un po il mese di agosto avrà il suo video dedicato e questo video verrà anche pubblicato in una data particolarmente significativa quindi l'ultimo libro di luglio lo vedrete in un video a parte che comunque sta arrivando e invece oggi parliamo degli ultimi due libri del mese di luglio di ben tre libri che ho abbandonato e anche di una piccola chiacchiera annessa a questo abbandono dunque perché ho scritto credo libri sorprendenti o qualcosa del genere nel titolo di questo video perché ho letto due libri che mi hanno sorpresa in corsa uno in positivo e uno non tanto in positivo quindi diciamo un libro che è partito da quattro stelle ed è diventato tre stelle e uno che è partito da tre ed è diventato quattro stelle abbondanti cominciamo dalla sorpresa non del tutto positiva perché è in linea cronologica quello che ho letto prima è un libro che avevo nella tbr di questo mese che ho letto insieme alla mia amica alice ed è una gioia feroce di sori shaland on questo libro aveva tutti gli ingredienti e tutte le premesse per essere un libro del cuore ma c'è qualcosa nel modo in cui la storia è stata sviluppata che non mi ha convinta del tutto questo libro racconta la storia di jeanne che è una donna di 39 anni con un vissuto molto doloroso alle spalle non so quanto andare nel dettaglio qui comunque con un vissuto molto doloroso alle spalle che scopre appunto alla soglia dei 40 anni di avere un cancro al seno quello che inizialmente sembra ovviamente un terremoto nella sua vita un completo disastro in realtà si rivelerà un'occasione per incontrare delle persone che avranno un ruolo speciale nella sua vita e per vivere un nuovo inizio ecco mi fermo qui con la trama il matrimonio di jeanne in virtù di questo vissuto doloroso che lei ha è altamente in pericolo e subisce un duro colpo quando lei scopre di essere ammalata invece al contempo questo nuovo inizio riguarda un'amicizia viscerale e bellissima con queste tre donne completamente diverse da lei che lei incontra appunto facendo la chemioterapia perché dico che questo libro avrebbe potuto essere un gioiello e invece non mi piace come è stato sviluppato perché allora c'è una premessa da fare che io mi rendo conto riguarda un argomento talmente erradicato nel nostro modo di pensare nella nostra cultura che forse ha poco senso farla però ci tengo visto che sto leggendo in questo momento ricordatemi come vi pare di michela murgia e che lei ha fatto veramente un gran lavoro per parlare della retorica della guerra quando si tratta di malattie e malattie terminali o malattie comunque gravi questo libro parte proprio a gamba tesa con questa stessa retorica quindi il cancro è una lotta da combattere la donna malata è una guerriera io capisco che questa cosa sia profondamente radicata nella nostra cultura nel nostro modo di pensare anche nel nostro modo di parlare pensiamo solo al fatto che quasi in automatico noi diciamo sta lottando contro il cancro però proprio perché nell'ultimo anno riflettuto molto su questo tema grazie a michela murgia qui un pochino l'ho notato però non è questo il punto questo è un appunto che veramente mi sento di fare ma è un po superfluo ad un certo punto la storia prende una svolta e anche qui non vado nel dettaglio perché non non ce n'è bisogno prende una svolta che definire sul reale è poco già partiamo da delle premesse molto particolari ovvero queste quattro donne che si incontrano diversissime tra loro per provenienza età vissuto però hanno tutte un vissuto estremamente doloroso e traumatico quindi già questa premessa qui è molto particolare perché il fatto che quattro donne che hanno tutte delle situazioni assolutamente fuori dall'ordinario nella loro vita tipo che una è stata in carcere un'altra ha un altro vissuto traumatico di un altro tipo già il fatto che quattro donne con questo vissuto così tanto fuori dall'ordinario si siano incontrate è un conto ma poi la storia prende una svolta completamente surreale completamente surreale e per un tot di capitoli veramente si assiste ad una virata bruschissima e fuori registro della storia che si stava leggendo e anche il modo in cui viene chiusa questa parentesi qui a me non ha convinto per niente ci sono delle scelte che non si spiegano l'agire dei personaggi che non ha razionalmente senso io lo so che non tutto si fa razionalmente però dopo che l'autore ci ha dato tutta una serie di informazioni chiudere quella linea narrativa diciamo in quel modo ha veramente poca coerenza ecco i personaggi e anche qui non è detto che nella vita siamo sempre tutti razionali coerenti perfetti nel nostro agire però c'è qualcosa che proprio non si spiega nel modo in cui lui ha deciso di chiudere e di riallacciare i fili di questa parte specifica del racconto che non mi ha convinta non mi ha convinta come ha fatto virare questo racconto in maniera bruschissima ad un certo punto del racconto ho pensato per la maggior parte del libro che l'autore pur essendo uomo avesse creato comunque dei personaggi molto completi credibili essendo appunto quattro insomma personaggi femminili però mi sono anche un po ricreduta ad un certo punto perché questa svolta un po da filmaccio di serie B che questo libro prende ad un certo punto rende anche un pochettino questi personaggi delle macchiette in quel frangente quindi libro che era partito benissimo io ho amato tantissimo la prima parte il rapporto tra queste quattro donne la rinascita di Jeanne in occasione di questo evento terribile però allo stesso tempo da forse neanche metà due terzi in poi quindi è proprio solo l'ultima parte c'è questa svolta un po improbabile che non mi ha convinta e dopo la svolta improbabile non mi ha convinta come lui ha chiuso questa parentesi secondo me in maniera poco credibile mi è piaciuto molto il finale con il finale devo dire si è ripreso però l'ho vissuto un po come se ci avesse messo una pezza quindi è un libro che nel complesso non mi ha soddisfatta come avrei voluto parte veramente molto molto bene ma c'è qualcosa nel modo in cui viene sviluppato che proprio non ha non so come dire non mi ha soddisfatta e non mi ha parlato ecco se l'avete letto magari senza spoilerare troppo però commentate qui sotto se siete d'accordo con me almeno sulla questione svolta particolare della storia così non svegliamo troppo per chi non l'ha letto però allo stesso tempo magari ne parliamo invece qui abbiamo al contrario un libro che era partito in sordina completamente e che invece ho amato tantissimo ed è Tom Lake di Anne Cachet anche questo era nella mia TBR del mese e è un libro che qui veramente ha svoltato verso la metà e mi ha portata verso vette altissime questo l'ho letto insieme a Valentina Valentina Lettrice Compulsiva era uno dei due libri per la nostra estate del gruppo Old But Gold perché dico che è partito in sordina? Tom Lake racconta la storia di una donna che bloccata dalla pandemia con le tre figlie e il marito nel loro frutteto nel loro ciliegeto nella fattispecie si trova a raccontare alle figlie una parte del suo passato che loro conoscevano solo in maniera superficiale che riguarda un'estate della sua gioventù in cui lei ha avuto una storia con un attore poi divenuto famosissimo. Appunto durante questo periodo della pandemia le persone che generalmente lavorano in questo frutteto sono ovviamente a loro volta isolate e quindi le tre figlie di questa famiglia che sono tutte diciamo nella fascia dei 20-25 anni si ritrovano appunto ad andare ad aiutare i genitori nella raccolta delle ciliegie e con l'occasione la madre racconta questa storia. Il libro parte molto lentamente nella prima parte mi sono chiesta veramente dove fosse l'interesse per questa storia perché tutti i personaggi sembrano avere quasi una curiosità morbosa nei confronti del passato di questa donna ormai quasi sessantenne e di questa sua relazione con questo attore divenuto poi appunto un attore famoso. Nel corso del romanzo però ci sono vari click che la narrazione compie che fanno tornare tutto al loro posto e rendono assolutamente chiaro perché tutta questa storia fosse rilevante quali fossero poi i nodi principali di questa relazione di questa storia di tutto quello che poi è successo dopo. Quindi in realtà appunto a parte l'inizio un pochino sommesso devo dire che questo romanzo mi ha convinta pienamente. Io credo che se non entrerà tra i libri migliori dell'anno sarà comunque una menzione d'onore. Prima di leggerlo pensavo che avesse dei rimandi, delle somiglianze con Fellowship Point. Non sapevo spiegarmi bene neanche io perché. Confermo che li ha anche se in maniera molto più forse flebile di quanto non mi aspettassi io. Flebile? Che parola? Si usa veramente la parola flebile? Vabbè. Labile? Dei legami e dei rimandi forse un po' più vaghi di quello che mi aspettassi. e però effettivamente qualcosa nel rimando delle atmosfere soprattutto della linea temporale passata qualcosa c'è. E appunto il racconto di questa estate passata ma anche il racconto del frutteto della fattoria della protagonista insomma e di suo marito di Lara e Joe sono delle descrizioni strepitose. La lentezza iniziale del romanzo per me non era data tanto dalle descrizioni quanto dalla necessità secondo me di mettere alcuni punti a posto quindi mi è sembrato quasi come se la prima parte fosse quasi preparatoria rispetto poi a tutto quello che si è spiegato nella seconda parte. Quindi la prima mette un po' le basi e comincia a raccontare la storia senza entrare nel vivo ma poi nella seconda parte si capiscono tutta una serie di legami, di significati, di eventi che erano stati raccontati nella prima parte e si mettono proprio a posto tutti i punti. Appunto romanzo fatto di atmosfere tantissimo ma in realtà anche di personaggi perché sebbene le tre figlie di Lara siano un po' sempre sullo sfondo raccontino poco di sé anche in realtà la voce della madre racconta poco delle figlie sembrano quasi un po' delle figurine sullo sfondo invece Lara suo marito e i personaggi che fanno parte del passato di Lara sono molto molto incisivi, convincenti, tridimensionali, intriganti anche a volte e pieni pieni di sfumature quindi c'è qualcosa proprio nel modo in cui questo romanzo è costruito che mi ha lasciata a bocca aperta. Se appunto nella prima metà a un certo punto ho detto a Valentina io mi sto trascinando in questa lettura, credo che me la porterò avanti piano piano nel corso magari anche del mese. In realtà poi nell'arco di pochi capitoli, più o meno io e Valentina siamo andate di pari passo in questa lettura, nell'arco di pochi capitoli c'è stata tutta questa serie di click di cui parlavo prima per cui io non sono più riuscita a staccarmi da questo libro nella seconda metà. Quindi veramente una scoperta strepitosa. Io avevo acquistato la casa olandese in ebook proprio subito dopo aver ricevuto questo e quindi insomma sono contenta di avere un altro romanzo di questa autrice che tra l'altro la casa olandese ha vinto un premio Pulitzer o comunque un premio letterario importante. Sono molto contenta di avere un altro suo titolo da leggere anche perché ho preso un po' le misure con il tipo di scrittura che lei ha quindi forse se anche la casa olandese inizialmente mi sembrerà un pochino lento avrò poi modo insomma di prendere il ritmo giusto avendo letto anche questo qui. Quindi questi erano gli altri due libri di cui volevo parlarvi appunto come sapete ho in lettura ricordatemi come vi pare di Michela Murgia a cui verrà dedicato un video particolare e vi devo parlare ancora di tre titoli abbandonati. Questa è una cosa che non faccio spesso perché in realtà non mi capita di abbandonare così tanti libri in così poco tempo. Non so se abbia a che fare con questo periodo particolare perché magari essendo le ultime settimane subito prima delle ferie sono comunque abbastanza diciamo affaticata da tutto l'anno che ho sulle spalle oppure se si tratti di scelte proprio di libri che non erano per me. Di questi tre due li ho abbandonati sapendo che non saranno i libri per me l'altro diciamo che lo considero abbandonato a metà. Il primo titolo che ho abbandonato questo mese è stato La psichiatra di Wolf Dorn che avevo ricevuto nello scambio libri che avevo organizzato il mese scorso e lo avevo preso uno perché c'era su Audible e quindi avevo pensato che potevo alternarlo all'ascolto e due perché insomma era un titolo che vedevo abbastanza in giro tra gli amanti dei thriller. Io non sono appunto come vi dicevo nel video in cui ve lo mostravo non sono una grande amante dei thriller intesi come thriller psicologico e quindi l'ho visto un po' come un esperimento però ho ascoltato le prime cento pagine del libro e non riuscivo a trovare un motivo per andare avanti. Nonostante appunto io non sia particolarmente ferrata sui thriller e preferisca i gialli ci sono dei thriller in passato che comunque mi hanno tenuta incollata alle pagine o alle cuffie quindi c'era qualcosa in questo che non mi faceva mai venire voglia di andare avanti se dovevo magari fare una passeggiata o cucinare e pensare di mettermi quel libro nelle orecchie lo facevo ma non era mai la sensazione di wow non vedevo l'ora di riprenderlo in mano perché voglio vedere cosa succede quindi dopo cento pagine mi sono detta se non ho mai voglia di ascoltarlo se non è una cosa che suscita la mia curiosità al mio interesse non devo dedicargli forzatamente del tempo. l'altro libro era nella box di romanzi punto it ho iniziato a leggerlo ma non l'ho trovato assolutamente nelle mie corde ed era adattarsi di Clara Dupont vi metto qui sotto il suo nome completo perché ha due cognomi è un libro che ha vinto anche un sacco di premi io non sono nuova alle letture che riguardano maternità malattia disabilità perché comunque ho letto la figlia unica ho letto come Daria non sono storie che mi spaventano di per sé ma questo libro non era assolutamente nelle mie corde come scrittura nonostante tra l'altro fosse un libro brevissimo scritto anche con un fonte enorme io non avevo voglia di andare avanti ho iniziato a provare una fortissima ansia leggendolo non era probabilmente nelle mie corde come scrittura quindi un po' malincuore perché appunto pluripremiato e ne ho sentito parlare bene anche da persone che seguo e con cui di solito insomma mi trovo anche in in sintonia è veramente un titolo che ho sentito lontano da me e che non avevo proprio voglia di leggere quindi questo insomma non era nelle mie corde invece il titolo di cui vi parlavo che considero diciamo un po' in pausa perché secondo me ha molto a che fare con il momento in cui l'ho preso in mano è questo saggio che si chiama la libreria dei sogni possibili guida per esploratori di storie di scaffali di jack doitch principalmente io mi aspettavo una cosa completamente diversa questo saggio che peraltro è solo di 150 pagine perché poi c'è un bel una bella sezione di note è molto molto teorico è pieno 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 di concetti di note da andare a guardare di storia e in più altra cosa che io non sapevo siccome il lo scrittore jeff doitch è il direttore di questa libreria che credo la prima libreria non profit negli stati uniti sì la prima libreria non profit con la missione di vendere i libri questa cosa non mi è chiarissima comunque si chiama seminary co op ed è a chicago ci sono tantissimi riferimenti a questa libreria ma tantissimi qual era la sua prima sede come è nata come sono disposti i libri le persone che la visitano ma non in maniera discorsiva ma in maniera molto tecnica quindi se una persona non conosce le premesse di questa seminary co op non conosce la libreria in cui è e non viene raccontata in modo un po discorsivo romanzato scorrevole ma in maniera molto tecnica è un po difficile starci dietro si affrontano tanti io avevo capito dalla sinossi che fondamentalmente questo saggio parlasse di perché sono ancora rilevanti le librerie nella nostra epoca pur avendo strumenti come amazon che in pochissimo tempo ci fanno ci permettono di procurarci tutti i libri del mondo e perché appunto le librerie devono continuare ad esistere qual è il valore dei librai delle librerie delle librerie indipendenti anche delle biblioteche però il tutto intanto io ne ho letta una settantina di pagine e non si era ancora entrati nel vivo dell'argomento ma il tutto è veramente infarcito di una quantità di riferimenti storici altissima che in questo momento io non riuscivo ad assimilare mi ritrovavo a leggere la stessa pagina anche più volte mi trovavo sempre un po in difficoltà a mettere insieme tutti i pezzi di cui aveva parlato quindi ho deciso di metterlo in pausa ma di tenerlo nella mia libreria e vedere se magari un momento in cui ho la mente un po più fresca un po più presente sia il momento giusto per leggere altrimenti saprò che è un testo un po troppo tecnico per quello che mi piace leggere secondo me è stato anche un pochino confezionato in maniera un po fuorviante perché vedendolo così guida per esploratori di storie di scaffali a meno che non cominci più avanti la parte un po più legata a questo aspetto qui è in realtà veramente un saggio molto tecnico e con molti riferimenti storici che non lo so mi sembra abbia poca attinenza col modo in cui viene presentato che sembra un po più insomma una un testo discorsivo e agevole comunque lo riprenderò in mano più avanti e vi farò sapere però a proposito di saggistica a tema libri ho ricevuto nel corso dell'ultimo scambio di libri che ho organizzato qualche giorno fa questo qui che si chiama Shakespeare scriveva per soldi di Nick Hornby Nick Hornby è un autore che io in gioventù ho amato tantissimo ora non leggo da un po ma vorrei darvi una possibilità a breve uno perché diciamo ce lo mi è rimasto un po qui il saggio che parlava di libri che speravo di leggere due perché interessa anche ad un'altra persona che era al book swap e quindi ho pensato di leggerlo a breve credo sia molto molto discorsivo e c'è una cosa che mi piace tantissimo cioè per ogni mese lui elenca i libri che ha comprato e i libri che ha letto cioè Nick Hornby è uno di noi è proprio uno di noi e a parte che non so magari di sette libri comprati già ne ha letti quattro e io qui non ci sto dietro però mi piace moltissimo questa struttura e anche appunto avevo voglia di un libro che parlasse di libri in forma di saggio quindi credo che leggerò questo prossimamente così uno posso poi passarlo alla mia amica e due posso soddisfare questo desiderio di lettura che mi era rimasto quindi avevo voglia di condividere con voi anche le letture abbandonate sebbene non siano rappresentative però perché ce ne sono state tante nell'arco di poco tempo quindi queste erano le ultime due letture del mese di luglio ci vediamo prestissimo per parlare e ricordare Michela Murgia e appunto volevo condividere con voi i libri abbandonati anche per darvi un po' una panoramica di quello che ho anche tentato di leggere questo mese io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi come sempre per il vostro tempo il vostro affetto i vostri commenti e noi se vi va ci vediamo al prossimo video ciao ciao